Un progetto importante, uno dei punti fondamentali di quello che è il nostro programma elettorale. Era un lavoro portato avanti dalla passata amministrazione, in cui un lavoro molto impegnativo e che finalmente vediamo i suoi frutti. Siamo riusciti ad ottenere quello che è un progetto esecutivo ed avere un finanziamento con i bandi del PNR di 2 milioni e 300 mila euro. Villa Mazzi ad Oliveto, comune di Civitella in Valdichiana, verrà finalmente restaurata. L'immobile ospiterà una scuola per l'infanzia, un centro di documentazione e una sala conferenze. Adibito poi a scuola dell'infanzia, nel recente passato era stata chiusa per via della normativa antincendio e antisismica. Adesso, con oltre 2,3 milioni di euro, sarà completamente restaurata e restituita alla cittadinanza. Il progetto prevede innanzitutto un miglioramento sismico del fabbricato, quella che è, oltre a un miglioramento sismico, una riqualificazione alle norme antincendio e un efficientamento energetico del fabbricato. Il progetto prevede chiaramente lo spostamento, quindi la ricollocazione della nostra scuola materna allo scogliattolo a Villa Oliveto e anche una sala conferenze ed il centro di documentazione di Villa Oliveto che verrà posto al piano semi-interrato dell'immobile. Il percorso da adesso sarà in pochi mesi andare ad approvare quello che è il progetto esecutivo e andare prima della fine dell'estate a fare la manifestazione di interesse e entro i primi mesi del 2023 iniziare con i lavori. Acquistato nel 1927 dalla famiglia Mazzi, divenne campo di concentramento dal 1940 al 1945. Sì, è chiaramente un immobile che è stato acquistato dall'amministrazione nel 1978 e che negli anni della guerra, appunto come tutti sanno, è stato sede di un campo di concentramento. Quindi è un immobile importante anche per la sua storia e quindi pensiamo che sia importante, come era stato in passato, andare a fare proprio in quel luogo quello che è una scuola, quindi un posto di istruzione. Grazie a tutti!